Gesù prega per i discepoli, per il popolo e guarisce, donando salute all'anima e al corpo. Papa Francesco ha celebrato la messa nella cappella della Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa fa memoria dei Santi Simone e Giuda Taddeo. La ricorrenza ha offerto al Pontefice l'occasione di soffermarsi sulla missione della Chiesa edificata sulle colonne degli Apostoli. Anche noi oggi a Carito facciamo parte di questo Tempio edificato, possiamo essere abitazione dello Spirito nonostante i nostri limiti, le fragilità. A Gesù non importò il peccato di Pietro, aggiunto Papa Francesco, cercava il cuore. E noi siamo cittadini con cittadini di questa Chiesa. Se noi non entriamo in questo Tempio e facciamo parte di questa costruzione, finché lo Spirito Santo abiti in noi, noi non siamo nella Chiesa. Noi siamo alla porta e guardiamo. Ah, che bello, sì, questo è bello. Cristiani che non vanno più avanti della reception della Chiesa. Sono lì alla porta. Ma sì, sono cattolico, sì, ma troppo no. Così.